Buonasera, qui è Meron de Rode, vi voglio bene. Dopo essere stata nella mia parrocchia, finalmente, dopo tanto tempo, sono andata all'adorazione. Sono andata a casa e mi sono preparata un bel piattino, che questo andrebbe bene per le persone che hanno problemi di sangue. Sangue, problemi al fegato, disintossicarsi, purificare il corpo. Allora, ho preso un finocchio, il sedano e un carciofo. L'ho tagliato e l'ho messo nella mia pentola a pressione con un goccino d'olio, pochissimo sale. Adesso io lo sto mangiando con del pane integrale, ed è va bene per disintossicare il sangue, purificare il sangue, vero? Per chi ha problemi di sangue, patiter, fegato, bla bla bla. Sto facendo una dieta detox, una volta mi sono messa di impegno. Ragazzi, non c'entra da fare, il miglior dottore è il cibo. Bisogna curarsi col cibo. È vero, è vero, è vero, è vero. Mangiamo poca carne, pochissima. Pochi saccati, ogni tanto magari cappuccino, ma l'alimentazione è importantissima. Basta merendine, basta queste cose confezionate, già queste cose elaborate, basta. Ragazze, iniziamo a cucinare. Impariamo a cucinare, a fare cose semplici. Stasera è un piatto semplicissimo. Il sedano, che è pure disintosica. Il finocchio, finocchio, sedano, carciofo. È buonissimo e fa bene alla salute. E ci si può curare di tantissime patologie. E basta medicina, a meno che non è una cosa proprio wow. Ma iniziamo a curarci anche col cibo. Prendi le medicini, ma curati anche col cibo. Avrai degli effetti sbalorditivi. Cosa dire? Magici. Vi ricordo che Gesù era un esseno. E mangiava tutte le cose, molte verdure crude, tutte naturali, tante verdure e carne, quasi niente. Niente. Gesù era un esseno. Mi raccomando. Cambiamo stile di vita. Se ci amiamo veramente e se ci vogliamo bene. Bye bye.